E' anche vero che questa è l'ultima legislatura con 950 parlamentari, perché dalla prossima si ha anche il taglio di parlamentari, che aveva circa 200 parlamentari, quindi la direzione è quella. Io sono convinto che alla fine qualcosa non si dovrebbe portare a cambio, poi si parla che ho sentito dire più al mercato, io poi non sento più a termini assolutamente cinici, però sia nel caso del mercato, nel senso che per questo si può essere anche un filo diverso di transformismo, certo? Nel transformismo conta non il mezzo ma il fine, Lincoln, ricordate che tutti i film di Spita, con due addirittura dei senatori per far abolire lo schiavismo, qui Conte non deve fare un'operazione di transformismo, magari anche l'evento si trasforma, perché insomma quando... Se ricorda di parlare nel suo tempo dei raggi, dei filipoti, dei raggi, dei raggi, dei raggi, ma non è che quando la vittura fai a Brasi, sono degli eroi dei commenterosi, come il compiere degli altri, sono dei figli di una buona donna. No, ma per questo si mette in fila, Conte lo stiamo facendo perché appunto è un'emergenza, è un regolo, 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 è un regolo...